Il torneo giovanile internazionale Casigoria-Liemi 99, questo pomeriggio si affrontano le squadre del San Luigi e del Kraslef, formazioni del squadre, San Luigi, numero 1 Zanier, numero 2 Vino, numero 3 Leggerpa, numero 4 Cina Capitano, numero 5 Calamelli, numero 6 Maneo, numero 7 Castagli, numero 8 Topre, numero 9 Kostic, numero 10 Gridei, numero 11 Bascotto a disposizione del regnatore signor Marco Saldiato, numero 13 Sudes, numero 14 Pagliaro, numero 15 Frattiano, numero 16 Pecorari, numero 17 Surdulescu, Kraslef, numero 1 Stranieri, numero 2 Caichi, numero 3 Curri, numero 4 Decovici, numero 5 il baso, pile 2 Capitano, numero 51 허ze, numero 41 Salute 1.0 2.0 A presto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 con. a tutti. a tutti. . a tutti. 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 a tutti.